Poco meno di una trentina di atleti iscritte alla gara riservata alle donne allieve che va a chiudere questa giornata del ciclismo qui a Buti presso il circolo Arci Le Vigne in località La Croce. Al momento del controllo rapporti le atlete in questa fase mentre il percorso naturalmente aumenta nel chilometraggio 48 chilometri e 300 metri da percorrere con 11 giri della pista ciclabile oltre a due passaggi sulla salita di Castella di Nocco. Ricordiamo anche il collegio di giuria con il presidente Gianluca Pantaleoni con Fagiolini ed il giudice di arrivo Noccioli la direzione di gara che è stata garantita in questa giornata del ciclismo a Buti da Adriano Chiti e da Sanzio Rampogni. E in questo momento è il vicepresidente vicario del comitato toscano Giacomo Bacci accanto a lui anche Sergio Monti presidente onorario della Butesi che ha dato il via alla manifestazione. Alle 16 la partenza di questa gara eccolo qua inquadrato Adriano Chiti che è vicino anche all'unione ciclistica empolese ma che naturalmente svolge anche le mansioni di direttore di gara per quanto riguarda questa prova in palio il trofeo fratelli Vannucci e la quarta coppa circolo Arci Le Vigne. Al via naturalmente grande attesa per Michela e Francesca Balducci ricordiamo Michela Balducci campionessa toscana e provinciale su strada ma ci sono anche Francesca Mati che ha ottenuto in settimana il titolo toscano su pista alle cascine nella prova dell'Ommium e Noemi Grandi campionessa toscana a cronometro. Gli atleti si apprestano a raggiungere la pista ciclabile per percorrere 11 giri. Nei primi chilometri c'era stato un tentativo da parte di Matilde Norvilli della polisportiva Milleluci GM raggiunta subito da un paio di inseguitrici e immediatamente anche dal gruppo. Il gruppo delle atlete sono rimaste una ventina in pratica in questo momento sono ad andatura tranquilla impegnate ancora nel tratto pianeggiante di questa manifestazione prima di affrontare la salita da Buti a Castel di Nocco che tra l'altro dovrà essere superata per due volte. E' la quinta edizione delle trofeo Fratelli Vannucci quarta coppa circolo Arci Le Vigne organizzata dal gruppo sportivo Butese e sponsorizzata da Cam Vernisciature Pontedera, da Eco Acciai, da Inas Italia, dalla Geofor, da Cromo Fasem. Mentre ci sono tra gli sponsor principali anche il credito valdinievole, la Idrotec, Idro Depur, prodotti per trattamento acque con sede a Fornovo San Giovanni Bergamo e Italo Morelli edilizia con sede a Bientina. Patrocino dell'amministrazione comunale, complessivamente quindi alla partenza circa 200 concorrenti tra gli esordienti del primo e del secondo anno, le esordienti e le allieve che vedete impegnate. Naturalmente qui si confida molto sulla prova di Michela Balducci e di Francesca Balducci, per il momento non è successo praticamente nulla di rilevante ed il gruppo continua a viaggiare compatto ed eccolo al passaggio dalla zona di arrivo. La salita verso Castel Dinocco spinge subito le atlete all'attacco e vediamo proprio le due Balducci, Michela Balducci che ha il numero di gara 75 e Francesca Balducci che ha il 79, impegnate in questo forcing. Assieme a loro abbiamo anche Sara Wackermann che è della Molinello Futon Servetto e che è sicuramente un'altra delle favorite di questa prova. Ma sono le due esponenti della Butese guidate dal tecnico Tinagli che stanno forzando i tempi ma la Wackermann sta rispondendo alla grande almeno per il momento. La vediamo con il numero 51 mentre dopo che ha condotto Michela Balducci ora si porta Francesca a fare l'andatura nel tratto finale dell'ascesa. È un tratto non lungo ma abbastanza impegnativo che sta per terminare ed è sempre Francesca Balducci che è stata campionessa italiana della categoria esordienti in passato. Mentre Michela Balducci invece è stata vice campionessa italiana. Vediamo in questo momento il passaggio del gruppo delle inseguitrici piuttosto ridotto perché ormai sono rimaste meno di 20 atleti in gara. Il ritardo una quindicina di secondi dal terzetto, terzetto che continua nell'azione perché siamo al termine della discesa. Questa è il vantaggio 20 secondi nei confronti delle inseguitrici per la numero 51 Sara Wackerman della Molinello, per la 75 Michela Balducci e per le 79 Francesca Balducci, entrambe della Butese. Queste le tre atlete al comando. Vediamo in questo momento proprio la Balducci che ha la maglia di campionessa toscana ottenuta in questa stagione a fare l'andatura. Ora le atlete dovranno tornare nuovamente ad affrontare la salita di Castel di Nocco. Il loro vantaggio al momento è una ventina di secondi. Ottima l'organizzazione della Butese impegnata fin dalle prime ore del mattino in questa domenica di luglio per organizzare questa giornata dedicata al ciclismo giovanile, maschile e femminile con un ottimo successo complessivo. Magari qualche atleta in più alla partenza per questa categoria allieve era atteso. Ma naturalmente non si può avere sempre il massimo, anche se l'impegno lo meriterebbe ampiamente, tenuto conto anche di questo a particolare momento della stagione. Vediamo il passaggio delle inseguitrici a un chilometro circa dalla zona del traguardo, confermato in una quindicina, venti secondi il ritardo. Stanno cercando di organizzare l'inseguimento le varie atlete non direttamente interessate. Vediamo Mirian Romei della Wiener Factory e proprio questa formazione che ha due o tre atlete impegnate all'inseguimento. Oltre a Mirian Romei che continua a fare l'andatura, vedete, invita anche le compagne di squadra a farsi sotto, a collaborare e anche naturalmente le altre. Il ritardo, venti secondi rispetto alle tre di testa. L'inseguimento operato dalla Wiener Factory ha avuto pieno successo in quanto Michela e Francesca Balducci, oltre che Sara Wackerman, sono state riprese prima di affrontare per la seconda volta la salita da Buti a Castella di Nocco. E allora tornano nuovamente le esponenti della Butese ad attaccare con estrema decisione. Insomma ci riprovano nuovamente a fare selezione sperando di avere successo questa volta con Michela Balducci che forza decisamente i tempi. Uno scatto notevole, infatti l'atleta Pisana ora si volta per vedere quello che sta avvenendo alle spalle. Eccola qua con il numero 75 Michela Balducci, la maglia di campionessa toscana, questo allungo. Sara Wackerman è quest'atleta che ora è in seconda posizione ad una ventina di metri dall'atleta della Butese che rinnova e lancia nuovamente l'andatura, rilancia il tentativo dietro, vediamo è un terzetto con la Francesca Balducci sulla destra, maglia della Butese, la Sara Wackerman numero 51 invece, mentre chiude con il numero 55 Elena Franchi che è della Cadeo Carpaneto. Queste le tre inseguitrici nel tratto in finale della ascesa quando mancano a questo punto soltanto 7-8 chilometri alla conclusione della prova. Là davanti intanto Michela Balducci sta per ultimare la salita, ecco il culmine di questa ascesa per Michela Balducci, 50 metri di vantaggio non di più nei confronti delle inseguitrici, vedremo come si comporteranno alle spalle, in questo momento la Franchi che sta conducendo sulla Balducci e la Wackerman, poi naturalmente stanno arrivando anche le altre concorrenti, una corsa comunque ancora aperta di stacchi minimi, anche perché in questo finale tutto può ancora accadere. E intanto vediamo che prosegue in questa sua azione Michela Balducci, praticamente ha un vantaggio invariato anche in questo tratto finale della contesa, nei confronti delle inseguitrici, ha provato in salita al primo passaggio assieme alla Balducci e la Wackerman, ci ha riprovato anche per quanto riguarda il secondo passaggio da Castello e Dinocco, 50 metri di vantaggio, non ha mai superato i 15 secondi il vantaggio dell'esponente pisana della Butese, davvero brava come sempre, generosa Michela Balducci cerca di resistere in questo finale, prima di raggiungere la località La Croce per la conclusione della gara. Dietro si è infoltito, il protoncino infatti comprende, lo vediamo, 5 atleti, c'è Francesca Balducci, la Wackerman, la Franchi, poi con il numero 59 abbiamo anche la Ferrari e c'è la Vigo, quindi la Vigo, la Ferrari, Francesca Balducci, la Wackerman, la Franchi, queste sono le atlete in questo momento impegnate all'inseguimento della prova, vediamo infatti con il numero di gara 62 abbiamo Mirian Romei, Mirian Romei, poi con il 51 Sara Wackerman, il 55 per Elena Franchi, queste le atlete che in questo momento sono all'inseguimento, hanno sempre questi pochissimi secondi di ritardo da Michela Balducci, naturalmente Francesca, la sorella di Michela, cerca in qualche maniera di frenare la rincorsa, ma a questo punto le inseguitrici hanno partita vinta e lungo la pista ciclabile, prima di tornare al traguardo, viene raggiunta Michela Balducci, nulla da fare, almeno per quanto riguarda il tentativo solitario, si affiderà allo sprint per cercare di vincere questa gara di Buti, ma intanto arriva il protoncino che si è ulteriormente infoltito nel finale, arrivo dunque a ranghi compatti, vediamo in questo momento sull'estrema sinistra Sara Wackerman, c'è anche Michela e Francesca Balducci, ma è Sara Wackerman davanti a tutti e va a vincere, Wackerman, Michela Balducci, Francesca Balducci, Arianna Vigo e Sara Ferrari, queste le prime cinque atlete della gara riservata alla categoria allieve, nonostante l'ottima prestazione dunque, i posti d'onore per Michela e Francesca Balducci. Sara Wackerman è la vincitrice del quinto trofeo, Vannucci, non era facile riuscire a liberarsi dalla morta delle due sorelle Balducci, ma tu sei riuscita a sorprenderle negli ultimi 300 metri, sei sbucata in testa a tutti e ce l'hai fatta. Sì, infatti non è facile perché le due sorelle Balducci sono molto forti, sinceramente non me l'aspettavo, perché comunque sono anche del primo anno allieva, sono molto felice di aver fatto questa vittoria. Terza vittoria stagionale e quindi ormai aspettiamo la quarta? Eh, speriamo, senz'altro la voglia di fare altre vittorie c'è, poi si deve vedere. Sono in compagnia di Enzo Del Rigi, presidente del gruppo sportivo Butese, è uno dei registi di questa lunga ma bellissima giornata di ciclismo giovanile qui alla Croce di Buti. Sì, è stata una bellissima giornata, abbiamo tanti partenti stamani, siamo riusciti a vincere anche una grande gara con Michael Pagni e anche nel pomeriggio abbiamo avuto una buona riuscita nella gara come partecipanti. Abbiamo vinto anche la seconda gara, ma abbiamo un po' di rammarico per il secondo posto di Michela Barducci nella gara delle donne allieve. Era la ciliegina sulla torta, su tre gare organizzate, abbiamo vinto tutte e tre, ne abbiamo vinte due e una a secondi. Pazienza, oh! Sicuramente il terzo grande successo è quello del pubblico quest'oggi presente, da voi, davvero tanti partenti e tutto è andato per il meglio e quindi l'appuntamento è alle prossime gare. Sicuramente, tutto è andato bene, questa è la cosa più importante e abbiamo avuto un buon numero di partenti e vorrei ringraziare innanzitutto il Circolo delle Vigne, l'amministrazione comunale che ci ha dato una mano a accomodare la pista perché aveva dei problemi la nostra pista ciclabile, tutti i nostri sponsor e tutti i genitori, i nostri ragazzi che ci hanno una mano ogni volta che ci sono le manifestazioni.